Penso che sia evidente come il racconto fin cui portato avanti sia un chiaro esempio di quella che noi chiamiamo intersezionalità delle lotte e quindi nell'osservare direttamente questi territori abbiamo potuto osservare e toccare con mano quella che è una azione politica e comunitaria che in maniera unitaria si svolga a 360 gradi contro quella che è l'aggressione ai propri territori da parte del capitale transnazionale. Come diceva giustamente Marco in quei territori l'autonomia è sopravvivenza perché togliere la terra a queste comunità e sottrargli l'autonomia vuol dire impedire a queste comunità di vivere come stanno vivendo attualmente. Questo ovviamente pone questa esperienza in un altro piano rispetto a quello che noi viviamo nei nostri territori. Questo perché purtroppo il collegamento diretto con la terra e con l'autonomia e con l'autogestione è purtroppo nei nostri territori un elemento che non è più centrale nelle nostre vite e la maggior parte di noi è all'interno del lavoro capitalista e quindi ciò che cerchiamo di interrogarci è come poter sfruttare e condividere queste esperienze per evidenziare delle possibili vie d'uscita da quella che è l'egemonia capitalista a livello mondiale. In questo l'evidenza è che un po' come il passaggio, diceva Mattias nell'introduzione, un po' come il passaggio fra le nostre due carovane negli ultimi due anni abbia avuto la grande forza di tentare di evidenziare i punti in comune fra le due grandi opere che ha molto bene raccontato Federica e quindi evidenziare come il corredore interoceanico e il Tremaya fanno parte di un unico grande progetto e quindi un'unica idea di cambiare il paese e avere una trasformazione radicale di quella che è l'economia del paese. Ciò che abbiamo potuto effettivamente riportarci a casa è il fatto che la grande consapevolezza di non lottare solo contro la distruzione ambientale ma lottare contro un sistema che avrebbe e speriamo non lo farà ma che rischia di cambiare completamente quello che è l'equilibrio sociale delle comunità in quel territorio e quindi per molte di queste comunità un punto di non ritorno questo perché l'entrata così in profondità dei progetti capitalisti in un territorio che per migliaia di anni è stato completamente isolato andrà per forza di cose ad aumentare quello che è lo sfruttamento della terra a rendere commerciabili terre che prima erano nel mezzo della foresta in un territorio che è ricco di risorse idriche e che ha una rete di fiumi sotterranei che attraversa tutta la penisola andando a inquinare le falde acquifere andando a privare alle comunità del proprio sostentamento andando a innescare un cambiamento che vorrebbe portare quei territori e quelle comunità esattamente come in altre parti del mondo a essere completamente assorbite da quello che è il modello capitalista ecco se quindi possiamo tracciare una differenza evidente fra la nostra situazione e quelle invece che abbiamo potuto osservare la carovana ciò che invece possiamo evidenziare come comune è la modalità di aggressione ai territori e quindi l'utilizzo dello strumento lasciatemi il termine un po' azzardato lo strumento grande opera per poter attuare un controllo del territorio in cui non è solo l'imposizione della grande opera e la costruzione della grande opera ma è l'arrivo di forza lavoro è la militarizzazione del territorio per permettere la costruzione della grande opera è quindi uno stravolgimento dell'economia locale pensate che il Messico il capitalismo neoliberale di questo governo che vorrebbe chiamarsi progressista è arrivato al punto da assegnare direttamente alcune lotti dei cantieri di queste grande opere direttamente all'esercito che ha capacità giuridica per fare impresa e che quindi oltre della sicurezza si occuperà della costruzione dell'opera e avrà anche una parte dei futuri introiti dell'opera ecco è evidente come questa modalità di aggressione ai territori e di estrazione di valore sia la stessa che possiamo incontrare nei nostri territori non ultimi i territori che abbiamo qui a nord-est e quindi fra tutto quello che va a incidere sulla laguna di Venezia come il Mose e la TAV che nel suo progetto totalizzando in Europa adesso passerà per Padova e Vicenza o anche in questa grandissima nuova idea di questo governo che vorrebbe andare dopo anni di discussioni a collegare la Calabria e la Sicilia con un grande ponte di cui ancora devono effettivamente fornirci quale saranno l'utilità per la popolazione locale questo è stato quindi il confronto e i temi che abbiamo potuto avere al termine di questa carovana in quello che è stato l'incontro internazionale che si è svolto in Ciapas a San Cristobal de la Scassas in territorio zapattista autonomo la grandissima possibilità che abbiamo avuto come si diceva di poterci confrontare contro più di mille fra delegati e delegate di organizzazioni latinoamericane ma anche nordamericane europee e medio orientali è stata illuminante dal punto di vista in cui veniva riconosciuta la grandissima differenza che c'è fra le nostre geografie fra i nostri modi di attuare e fra i nostri modi di lottare ma la consapevolezza che questa aggressione ai territori è un grande progetto comune è un grande progetto comune che agisce in modalità simili con una repressione che ovviamente raggiunge diversi livelli di intensità ma che è sempre rivolta a reprimere il dissenso e come in questo non può essere slegata l'opposizione a queste politiche dalla costruzione di comunità questo perché ciò che stanno cercando di continuare a portare avanti anche nei nostri territori dove purtroppo non abbiamo il 40% di terre non ancora occupate è quello di continuare a toglierci il nostro spazio di vita è quello di continuare a toglierci la nostra possibilità di autodeterminarci e di poter costruire la nostra traiettoria di vita e la nostra autogestione ma allo stesso modo la grande consapevolezza che il nemico che andiamo ad affrontare è un nemico molto forte e con diramazioni mondiali questo perché la grande alleanza che è evidente in Messico ma che è evidente anche in Italia che è evidente un po' tutto il mondo che è quella fra governi imprese e criminalità organizzata è ovviamente uno schema che viene riprodotto con percentuali diverse in tutti i territori quindi la consapevolezza che il nemico non è affrontabile a livello singolo ovviamente di singole persone ma neanche a livello di singole comunità quindi come l'obiettivo della carovana nel sud-est messicano è stato quello di mettere in relazione questi due grandi megaprogetti e le comunità che resistono a questi progetti la conclusione dell'incontro internazionale si è basata sulla necessità non solo di continuare a avere uno scambio di pratiche di teorie di modalità organizzative ma anche quella di dimostrare a livello mondiale che un nemico che agisce a livello transnazionale riceve una risposta a livello transnazionale e questo per far capire che le comunità dal basso in tutto il mondo esistono sono in connessione e possono mettere in campo una risposta comune e questa attenzione è importante non solo per quelli che sono le mire espansionistiche del capitalismo neoliberale ma questo va a avere un riflesso molto concreto sulle vite di moltissimi e moltissime attivisti e attiviste che giorno dopo giorno per difendere il proprio territorio rischiano la vita rischiano di essere sequestrati rischiano di essere ammazzati rischiano di scomparire nel nulla dimostrare una reazione comune e una dimostrare di essere organizzazione ma di essere anche rete questo può effettivamente fare la differenza fra la vita e la morte di tante persone che si spendono così come ci spendiamo noi in questi territori per questo motivo al termine dell'incontro internazionale è stata identificata una data comune che è la data del 12 ottobre resa ovviamente simbolica per l'arrivo di Cristoforo Colombo nel continente adesso chiamato America e quindi inizio di quella che è la conquista e l'invasione del continente americano e quindi della nuova tappa del colonialismo mondiale assumere questa data per poter proporre azioni dislocate in ogni geografia del mondo per poter prendere parola e azione contro questa aggressione questo non vuole essere un chiamato a un'azione standardizzata o con delle linee comune o con dei dogmi da seguire questa vuole essere semplicemente evidenziare una data che a livello simbolico ha un significato molto importante che addirittura in alcuni paesi è addirittura festa nazionale e che è ovviamente un abominio e riprendercela in modo che ogni comunità e ogni organizzazione nel proprio territorio possa farla sua e significarla con ciò che effettivamente possiamo vivere nei nostri territori o su ciò che effettivamente vogliamo evidenziare rispetto all'aggressione capitalista nel mondo in questo la volontà dovrebbe anche essere quella di evidenziare chi sono i responsabili di questa aggressione ai territori e in questo ovviamente non ci si può esimere dall'indicare chiaramente i governi e le multinazionali che stanno portando avanti questa aggressione dei territori anche perché andando a analizzare effettivamente ciò che incontriamo scopriamo che sono più o meno sempre le stesse aziende e gli stessi governi a attuare in questa maniera abbiamo una partecipazione di Enel nei campi eolici di cui parlavamo prima abbiamo una partecipazione molto importante della società ferroviaria tedesca nella costruzione del Trem Maya abbiamo ovviamente una pressione del governo degli Stati Uniti e un'alleanza col governo messicano per andare ad attaccare determinate luoghi strategicamente a livello geopolitico sappiamo che noi siamo tanti e tante e che loro sono pochi e devono essere identificabili e accusabili questo quindi è più o meno la linea comune di ciò che si è discusso alla fine dell'incontro internazionale poter effettivamente sfruttare tutti e tutte la data del 12 ottobre per andare a riaffermare che ognuno e ognuna nei propri territori e con le proprie particolarità e con la propria autonomia riconosciamo quelli che sono i nemici comuni e lottiamo per contrastare questo modello di sviluppo questo modello estrattivista e per riaffermare la nostra autonomia e la nostra libera autodeterminazione nei nostri territori grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti